Renzi sul bilancio dello Stato racconta un sacco di balle perché siamo a rischio di aumenti dell'IVA al 25%, delle accise sui carburanti, dell'IRAS e dell'IRAP. Sono tutte delle norme che vengono semplicemente rinviate ma che prima o poi ricadranno sulla testa dei cittadini. In più aumenta il debito pubblico a livelli impossibili, l'anno scorso l'ha aumentato di 10 miliardi, quest'anno prevede di aumentarlo di oltre 17 di cui 3 spesi per l'accoglienza degli immigrati al posto di finanziare opere necessarie ai nostri territori. Gli unici tagli che fa sono agli enti locali, quindi colpendo sanità, scuola, viabilità, opere pubbliche necessarie ai cittadini. La spesa dell'apparato statale non è ancora stata tagliata nemmeno di un centesimo e sarebbe invece la strada maestra da praticare.